Si parlerà del trattamento del cancro al colon retto venerdì 13 e sabato 14 maggio ad Agrigento presso l'hotel di Oscuri durante un corso di aggiornamento rivolto a medici ed infermieri. Una neoplasia purtroppo è in crescita anche sul territorio agrigentino, ma la provincia è ormai all'avanguardia sia per ciò che concerne la prevenzione sia per quanto riguarda il trattamento. Come conferma il nostro telegiornale, il direttore del corso, il professore Carmelo Schumet. Il tumore del colon retto ano, che se ne parla sempre non moltissimo, specialmente di quest'ultimo, è una patologia che purtroppo è ingravescente. E che grazie allo screening che la nostra provincia ha intrapreso ormai da qualche anno, abbiamo anche il registro dei tumori che è associato con quello di Trapani. L'unità operativa complessa di chirurgia generale, entoscopia e laparoscopia, a conduzione universitaria da me, diretta ad Agrigento e ad Interim, anche qua a Sciacca, è il centro pilota per lo screening di queste patologie tumorali, perché come sappiamo più del 95% nascono da una patologia benigna, da un precursore che è il famoso polipo. Solo 4-5% nascono in maniera diversa, ma la stragrande maggioranza di questi tumori nascono proprio da una formazione cosiddetta polipoide. E che quindi nel tempo, cosiddetto dual time, cioè nascono oggi ma si manifestano come tumori che degenerano nell'arco da 5 a 15 anni. Quindi se a un giovane a 40 anni viene un polipo, considerate che a 50-55 anni già avrà un tumore. La laparoscopia, quanto è stata importante per voi che trattate queste patologie e anche per i pazienti affetti da queste patologie? Mi pare di capire che questi due giorni servirà anche per focalizzare l'attenzione proprio sulla laparoscopia. Ha portato una serie di vantaggi. Il primo di questi vantaggi è che il paziente riceve un intervento che è tale e quale a quello open, a quello aperto. Perché i tempi chirurgici sono medesimi, sono uguali, soltanto che l'accesso è diverso. E capite bene che fare una incisione che parte dallo sterno, passa dall'ombelico e arriva fino al pube, quindi un'ingisione cosiddetta anch'essivo ombelico pubblica, è diverso di avere quattro accesi da 10 mm e poi per uscire il pezzo si fa come fanno nelle donne, che si fa una piccola ingisione sopra pubblica, che si chiama ingisione di piffane stille, e si asporta il pezzo in maniera assolutamente sicura. Quindi i tempi sono identici. L'accesso è diverso, ma principalmente poi è nel postoperatorio, perché è mini-invasiva per il paziente, ma credetemi per l'operatore non è tanto mini-invasiva. Per cui nel postoperatorio il paziente, con il protocollo ERAS, a distanza di qualche ora dall'intervento chirurgico, il paziente si alza, beve, l'indomani mattina comincia la prima colazione. Cosa si può fare per la prevenzione? Allora, la prevenzione sono primaria e secondaria. La primaria è quella che riscuote sempre meno successo, perché è quella in cui bisogna convincere la popolazione ad una sana alimentazione. Perché si è visto da dati epidemiologici, che per esempio in Africa questo tumore quasi non esiste, perché mangiano molta frutta, verdure, non mangiano insaccati, scatolame, perché ci sono delle sostanze che sono conservanti e quindi danno molti problemi. Poi c'è la prevenzione secondaria, che è quella che abbiamo detto prima, cioè lo screening. Quindi quando arrivano le letterine a casa, vi prego, andateci a fare, perché ci sono cinque centri dove si può fare lo screening. In quanto c'è, oltre aggrigento, c'è Canicatì, Licata, Ribera e Sciacca.